Surroga rimandata. L'avvocato Donatella Romagnolo, prima dei non eletti nella lista Milazzo Futura, ha comunicato al presidente del Consiglio, Rosario Pergolizzi, la scelta di rinunciare a prendere il posto del dimissionario Salvatore Gitto, oggi assessore all'ambiente, motivandola con esigenze di natura professionale. Adesso il massimo rappresentante del civico consesso dovrà procedere alla convocazione di Vincenzo Salmeri, secondo dei non eletti, nella stessa analista. I lavori d'aula dell'ultima seduta sono proseguiti regolarmente. Proprio il presidente Pergolizzi ha aperto i lavori con una riflessione sul ruolo che dovrà recitare al civico consesso nei prossimi mesi, sia per i rapporti con l'amministrazione, sia per fronteggiare la grave situazione finanziaria, affermando che in questi giorni non c'è stata l'auspicata collaborazione e ottenere la documentazione richiesta in merito alla situazione economico finanziaria dell'ente diventa ogni giorno più difficile. In queste condizioni, ha proseguito Pergolizzi, non è possibile continuare e quindi meglio andare tutti a casa. Esternazioni condivise da Damiano Maisano e Roberto Mellina. Antonio Napoli ha proposto di rivedere una delibera del commissario sull'attivazione di nuove entrate dell'ente. Mellina e Pergolizzi hanno riportato le lamentele dei commercianti per le tasse sull'occupazione di suolo e spazi pubblici. Nel corso della seduta, il PD ha comunicato di avere scelto come capogruppo Francesco De Pasquale, ribadendo la sua posizione contraria all'amministrazione comunale. Il consigliere Antonio Capone ha ufficializzato la sua uscita dall'MPA e la sua collocazione da indipendente. Al termine della seduta, i cui lavori sono stati rinviati a martedì prossimo, i consiglieri Alessio Andaloro, Peppe Marano, Franco Scicolone, Damiano Maisano, Francesco Alesci hanno simbolicamente occupato l'aula, motivando la decisione con la mancata consegna di documenti richiesti la scorsa settimana riguardanti il pagamento dei fornitori da parte del Comune. La protesta è stata poi sospesa grazie all'intervento della dottoressa Giuseppe Apuleo, che in atto regge anche il Dipartimento Ragioneria, la quale ha dato precise disposizioni agli uffici affinché consegnassero in giornata la documentazione richiesta.